Partecipo a BRK perché non ho paura di credere Per una volta sono io la protagonista Per andare controcorrente Perché voglio rispondere con entusiasmo all'invito del nostro Vescovo Per far sentire la mia voce Perché la storia ci insegna che insieme tutto è possibile Perché tutta la città deve sentire il nostro chiasso Per condividere la propria fede Per fare nuove amicizie e creare legami forti nel tempo Partecipo a BRK perché tutto è dono Questa è l'Arena da Turi e il 26 maggio sarà in festa per noi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!